Il team di Radio Pellati si arricchisce non solo di nuovi studenti, ma anche di nuove idee. Infatti, protagonista dell'anno scolastico 2023-2024, è la collaborazione tra la radio e la biblioteca del Pellati, che hanno deciso di unire le loro forze per creare podcast incentrati sulla letteratura, le tradizioni e la cultura in generale. Realizzeremo recensioni, commenti scherzosi su opere letterarie, interviste e reportage su eventi organizzati dalla scuola o da associazioni del territorio. Ci piacerebbe ricevere anche proposte da voi ascoltatori barra lettori, che siete invitati quindi a cercarci e a scrivere testi che volete siano approfonditi e pubblicati dalla radio scolastica. Chiudiamo questo breve podcast di apertura salutando i due fondatori di Radio Pellati, Mattia De Lucia e Alessandro Fiscelli, che ora sono alle università e ai quali facciamo il nostro in bocca al lupo.